Torna Mammarella, torna il sole, torna il successo, torna la speranza, ma di più la voglia matta di riportare un trofeo. Ecco spiegato il 7-0 stucchevole dell'Acqua e Sapone Unigross. Playoff scudetto, prima uscita nei quarti, a spese del malcapitato Catania, che domani all'evento ospiterà i nerazzurri angolani nella propria Tana in gara 2. Eventuale bella, sabato 15 di nuovo a Pescara, ma se l'antipasto è questo 7 è bello... A proposito, per la cronaca, le firme, doppietta di Guy e Dudu, in più il solito Luca Ian, ma anche Rafinha e Capitano Murillo. Piange e mastica il fiere una tombese ortona che in gara secca, prima fase, playoff di A2, viene eliminata dal Cus Molise in code supplementari dopo aver rimontato e, nonostante l'espulsione del portiere Dalloso e alcune, troppe, contestatissime decisioni arbitrali, dopo aver, si diceva, dominato fino al 5-4. In gol di Ervolino, Assad, Pizzo, due volte Bordignon. Esce di scena con applausi, pure in gara secca, una Real Dem che nei playoff di B cade sul campo del forte Itria con un 8-4 e si era in vantaggio, che nulla toglie al pazzesco recupero stagionale dei Montesilvanesi e che salta ancora una volta l'Infinito Junior, autore di una doppietta con uno scavino perla da campione. Con lui, in rete pure l'altro fuoriclasse immarcescibile Schurz e il giovane Dominioni. In campo femminile, infine, il Montesilvano ha avuto vita relativamente facile in gara 1 dei quarti contro Città di Capena. Doppietta di Amparo e un'apertura a rotonda Lusideia nella ripresa, ma tante le occasioni sfumate, il 3-1 sta stretto. Conta il successo da replicare giovedì in gara 2, con eventuale bella da scongiurare domenica 16.